Un brutto voto preso a scuola e la paura di affrontare i genitori. Queste le ragioni che ieri pomeriggio hanno spinto una ragazzina di soli 12 anni a scappare di casa. Per fortuna il suo allontanamento è durato poco grazie all'intervento dei carabinieri che l'hanno rintracciata in città, rassicurata e convinta a tornare dalla sua famiglia. Il tutto si è svolto tra le 16.20 di ieri, ora in cui i genitori della 12 anni sono usciti di casa per andare a prendere a scuola l'altro figlio, quello più piccolo, lasciando l'adolescente nella sua cameretta a studiare. E le 18.20 quando una pattuglia dei militari che la stavano cercando dopo la denuncia di mamma e papà l'hanno ritrovata in piazza Marconi vicino ad un distributore di bevande e a circa mezzo chilometro dalla sua abitazione. In mezzo a questi due orari la grande preoccupazione e l'ansia crescenti dei due genitori che si sono immediatamente rivolti alle forze dell'ordine dando il via alla ricerca. Dopo poco sono riusciti a riabbarciare la figlia che tra le lacrime ha raccontato i motivi del suo gesto, un brutto voto del quale non sapeva come informarli.